È stata inaugurata la presenza di una delegazione roccastradina, la clinica materno-infantile realizzata in Etiopia e finanziata dal benefattore maremmano Mario Maiani. Il centro sanitario è stato intitolato a Don Biagio Bailo, parroco di Roccastrada e personaggio storico del capoluogo dell'Alta Marimma che nel dopoguerra ha ricostruito Roccastrada con scuole e ospedali. Al taglio del nastro erano presenti il ministro della Sanità etiope Mario Amerini, ingegnere di Roccastrada che ha curato la progettazione e Aldo Morrone, medico dell'ospedale San Gallicano di Roma che si occuperà del supporto medico-logistico del centro ospedaliero. La struttura si trova ad Adigrat, città di 120.000 abitanti nel nord dell'Etiopia al confine con l'Eritrea e comprende due reparti, ginecologia ostetricia e pediatria per un totale di 34 posti letto. Oltre alla città l'ospedale copre un interland di altri 200.000 abitanti. Nei primi giorni di attività sono già stati effettuati 40 parti. La struttura è dotata di due incubatrici, un tavolo di rianimazione, un produttore di ossigeno, tre letti per il parto e ampi spazi per madre e bambini. Inoltre è stata costruita anche una palazzina per ospitare i volontari medici italiani. Tra pochi giorni inoltre arriveranno ad Adigrat anche dieci grossetani protagonisti del ride di autostoriche dalle piramidi agli obelischi che consegneranno al nuovo ospedale pacchi di medicinali donati dai maremmani. Mario Maiani ha già realizzato due centri sanitari simili in Bolivia e in Peru, mentre prossimamente sarà inaugurato un altro ospedale nella capitale della Nigeria e il centro anziani di Caldana finanziato sempre da lui e dal comune di Gavorrano.